La diplomazia lavora per trovare uno sbocco al conflitto in Ucraina, ma sul terreno la situazione resta ingarbugliata. Le parti reclamano vittorie e accusano l'avversario tra combattimenti che continuano e le poche persone che riescono a tornare a casa. Kiev ha fatto sapere che i suoi militari hanno preso il controllo di una stazione di polizia a Lugansk, regione dove sostiene sia stato abbattuto dai ribelli un caccia dell'esercito. Le autorità ucraine sostengono inoltre che il suo spazio aereo è stato violato da droni russi una decina di volte e che sul suo territorio sarebbero entrati anche tre lanciamissili Grad. Sappiamo che i ribelli hanno utilizzato i loro percorsi, che non sono sotto il controllo dell'esercito ucraino. Hanno munizioni e uomini arrivati dalla federazione russa. Non siamo in grado di fornire un numero esatto, stiamo facendo delle verifiche. Anticipando il vertice di Berlino tra il ministro degli esteri russo e quello ucraino, alla presenza dell'omologo francese, il ministro degli esteri, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto sapere di sperare di ottenere un cessate il fuoco duraturo.